Ed eccoci in diretta, abbiamo allargato l'obiettivo e abbiamo coinvolto la nostra amica Silvia che viene a parlarci di un avvenimento che farà parte, che coinvolgerà la nostra città domenica 31 di maggio. Silvia, buon pomeriggio e benvenuta a Super TV. Allora, io ti ho presentato come promotrice, come responsabile di questa associazione ecco, vorrei che tu mi parlassi un po' anche della realtà di questa associazione che opera all'interno della nostra città già da un decennio. Sì, allora l'associazione è l'associazione Centro Migranti che fa capo alla Diocesi di Brescia e da appunto una decina d'anni organizza questa festa che si chiama Festa dei Popoli Brescia. Questa festa che inizia con la Santa Messa, quindi per le comunità cattoliche e poi si allarga alle comunità di altre religioni. Quindi, un bel modo questo, un modo simpatico anche per... Si parla tanto di integrazione, credo che questa sia una grande opportunità. Poi noi vedremo anche alcune immagini delle precedenti manifestazioni che ci vanno a capire l'importanza di questa iniziativa perché poi se andiamo a vedere bene il Sottosotto ci si conosce e vediamo gli altri anche sotto un altro aspetto. Sì, infatti la prima festa che abbiamo fatto come titolo aveva appunto conoscere l'altro attraverso i suoi occhi perché è proprio grazie a come vedono loro Brescia, come vedono loro noi cittadini bresciani che possiamo capire, conoscerci e integrarci. Quindi appunto, come dicevi, l'integrazione come base fondamentale. Quindi c'è del sacro e c'è anche del profano, quindi un momento importante, liturgico, dove ci sarà la messa. Ma la cosa bella, guarda, io Silvia devo dirti una cosa, è fantastico comunque vedere che anche tra altre etnie, altri popoli, ci sia questa aggregazione. Perché io credo che non dobbiamo mai pensare che l'altro sia peggio di te, perché magari tu potresti scoprire che quell'altro è migliore di te, magari puoi imparare anche qualcosa. Sì, assolutamente, infatti... Ecco, ma in questa tua esperienza, intanto noi invitiamo i nostri ascoltatori anche a partecipare perché non serve, cioè, integrare vuol dire esserci, partecipare, essere testimoni di un avvenimento che ci può far vedere il mondo anche in un modo diverso. A compimento di una festa dici, ma io pensavo che questi popoli fossero... Perché purtroppo la cronaca oggi ci fa vedere solo in marcio, ma non ci fa vedere le cose che funzionano. Quindi la tua esperienza, ecco, come ce la puoi descrivere? Allora, abbiamo iniziato appunto solo con le comunità cattoliche una decina di anni fa e man mano siamo andati avanti abbiamo detto perché no, proviamo a invitare anche i fratelli delle altre fedi. E' stata un'esperienza positivissima già dal primo anno perché hanno partecipato subito sia la comunità musulmana, quest'anno abbiamo una forte rappresentanza della comunità Sikh, quindi anche loro una comunità dei Murid che parteciperà, quindi vediamo tante realtà, tanti paesi differenti. Per me personalmente è un arricchimento grandissimo. Ma poi è anche bello crescere e comunque dando anche agli altri un'opportunità di poter condividere anche un momento di festa perché non solo c'è la ricchezza di conoscere un altro ma c'è un'altra ricchezza che è straordinaria che è quella della cultura perché, vedi, c'è anche un momento dove c'è la musica ma ognuno porta una propria conoscenza musicale. Sai, se noi dovessimo concentrare le varie diversità potremmo fare un... credo che... è un po' come fare un mosaico, no? Cioè per fare un mosaico ci vogliono tanti piccoli tasselli e credo che ognuno di noi può essere un tassello. Se messo al punto giusto potremmo fare davvero delle cose importanti. Ma come si svolgerà la giornata? Come sarà articolata? Santa Messa? Alle 10 la Santa Messa alla parrocchia della Stocchetta e verso le 11 e mezza partirà questo corteo festoso insieme alle altre comunità non cattoliche. Quindi verso il paese natale di Paolo VI che quest'anno ha una grande importanza essendo diventato beato a ottobre dell'anno scorso e da lì parte la vera e propria festa, degustazioni di piatti tipici di tutte le comunità e nel pomeriggio alle 2 e mezza parte lo spettacolo quindi come dicevi, musica, musica da tutto il mondo sono 10 le comunità che rappresenteranno questo spettacolo quindi mosaico di colori, di musica, di tradizioni. Guarda io non sapevo, io ho parlato prima cioè guardate come a volte la casualità di ragionamenti poi sposa un ideale straordinario, no? C'è questo mosaico che naturalmente dove tutte le persone potranno davvero conoscere davvero anche i vari risvolti io mi ero trovato una volta ero in Versiglia c'era una comunità che praticamente hanno fatto una festa ma tu sentivi solo con pochi strumenti percussione, utilizzavano strumenti più sballati cioè tu sentivi però delle cose fantastiche cioè quindi non dobbiamo mai giudicare gli altri perché purtroppo questo capita nei tempi nostri di generalizzare io penso una cosa Silvia che c'è il bello e il brutto comunque ovunque ovunque sta a noi saper coltivare noi abbiamo a disposizione delle opportunità che sono grandi e credo che se insieme riusciamo a collaborare a fare diventare questa festa è vederla amplificata come nel mondo cioè dove in ogni parte del mondo ci si possa confrontare con lealtà e rispetto perché credo che il ragionamento parte sempre dalle piccole cose ma se viene amplificato e capito questa piccola cosa può diventare una cosa incredibile potremmo addirittura cambiare il mondo con poco beh sì è un po' lo spirito che la festa la mission che la festa vuole non solo far capire che Brescia ormai è il mondo il mondo è a Brescia ma dobbiamo conoscerci conoscerci per integrarci e crescere insieme quindi le persone anche di altre etnie comunque si sono avvicinate assolutamente ma quando voi vi siete incontrati poi cos'è 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 emerge da questa da questi incontri ma ti dirò innanzitutto amicizia perché tra di loro proprio poi si scambiano i numeri di telefono si sentono organizzano tra di loro poi altre feste si autoinvitano alle feste popolari che fanno tra di loro ecco amicizia sicuramente diciamo che è un incontro dove possiamo creare delle opportunità per crescere sì se non ci conosciamo non possiamo crescere rimaniamo sempre fermi sì d'accordo Silvia io guarda faccio un esempio banale a volte mi capita di passeggiare di vedere delle persone che sono straniere ma che in fondo non sono diverse noi sono anche loro esseri umani come noi però a volte magari vedi che passano e sembra che queste persone vivano in un loro mondo dove che magari ti fanno capire che in quel passaggio magari dicono ma sembra quasi che non siano interessati ad una ad una socializzazione ma se tu crei un punto d'incontro allora da lì nasce è la ricchezza di questo è il punto d'incontro perché se noi ci isoliamo e ognuno di noi si isola e vede l'altro passare dove non c'è uno spunto di un intescambio è difficile ma quando c'è la festa ah ciao che fai qui dove sei? diventa un momento di socializzazione e quindi la festa durerà fino a che ora? circa le 6 del pomeriggio le 18 sì quindi una giornata quindi si svolgerà tutto e lo ripetiamo domenica tra la parrocchia della Stocchetta e Concesio domenica 31 maggio a partire dalle 10 allora io vi faccio un in bocca al lupo per questa iniziativa e spero siano tanti anche dei nostri ascoltatori che vorranno partecipare e così anche solo come spettatori perché vi spiego una cosa tante volte se non si vedono e non si toccano con mano alcune cose si rimane sempre della propria idea se però tu ci sei e vedi puoi magari anche cambiare e tante volte cambiare non significa peggiorare significa migliorarci e credo che su questa vita su questo terreno tutti noi dovremmo ogni tanto fare anche dei piccoli esami di coscienza proprio per migliorarci per aprire il cuore e abbracciare anche gli altri che non sono diversi da noi perché sono come noi io quando dico spesso che gli altri siamo noi è vero un altro titolo è stato questo gli altri siamo noi bene allora io e Silvia non ci siamo mai visti e non abbiamo non ci siamo preparati però voglio fare un in bocca al lupo e buona fortuna per questo progetto che possa continuare perché sicuramente questo è un inizio che già ha un suo percorso di dieci anni sicuramente ci arricchirà molto anche a livello umano quindi buona fortuna grazie mille e ancora buona fortuna ti aspettiamo grazie una bella canzone poi torniamo ancora in diretta con video saluti grazie a tutti 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 grazie a tutti